Antonella Clerici, presentatrice italiana, ha espresso una forte opinione su Twitter riguardo alla morte di Manuel Proietti. Un bambino di 5 anni vittima di un omicidio stradale che coinvolgeva un SUV Lamborghini guidato da un youtuber noto come The Borderline. Clerici si è chiesta come sia possibile che tragedie del genere possano accadere a causa della ricerca di popolarità sui social media e del fascino del denaro facile. Ha attribuito parte della colpa ai genitori che non si impegnano sufficientemente nell'educazione dei propri figli. Il tweet di Clerici riflette un sentimento più ampio tra vari individui dell'industria dell'intrattenimento che hanno criticato le persone coinvolte nell'incidente e hanno ricevuto il sostegno del loro pubblico, così come di altri youtuber dissidenti.